Ciao a tutti da Cristian TG, il salutatore del blog, direttamente da Osia, eccomi qui con la famiglia Salvi, Manuel, Mirko e Nicolò. Dedichiamo va 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 a tutti quelli che non mi piace, va va va. E a quelli che hanno fatto cancellare, va va va. Ciao Enzo, un saluto e poi ricordiamo il canale di Manuel. Iscrivetevi al mio canale e mettete like. Manuel Salvo, canale su YouTube. Ciao, tutti i tutti se volvono il blog, famiglia Salvi, ciao da Osia, ciao.